Finalmente, Ilari! Buongiorno! Che abbiamo voluto lasciarti come il babà, come la ciliegina sulla torta per ultima, ma insomma, davvero brava, hai avuto grande successo, grande fama, grande popolarità. Ti ha fatto anche piacere. Prima di iniziare però... Ahia, ma cosa fa? È di lei, si porta fortuna. Ma che porta fortuna? A chi porta fortuna? Ma ha fatto male. Ma il suo ragazzo lei fa sempre così. Quindi... Allora, allora... 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 Lo diciamo al massaggiatore di una certa squadra calcistica. Non sono stiramenti quelli che ha... Eh, sono i pizzicotti di Ilari. Va bene, allora adesso cominciamo col presentare i nostri tre sfidanti di questo sabato. Prego. Allora, la prima si chiama... Buonasera signora. Buonasera. Andiamo avanti. Poi abbiamo Domenico. Signor Domenico. E infine Luca Bombendale. Una sua curiosità che realizza edifici in miniatura. In miniatura cosa fa? Monolocale. Plen, dalle mie parti. Grazie, ma... Senti, scusa, scusa. Vorrei che tu mi portassi la mitica maglia. Non so se hai capito. Attendo la mitica maglia. Dipende. Grazie. Grazie, va bene, va bene. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ag trabajar. Ve lo dico io Succede Allora Mora Dai l'appuntamento Dai l'appuntamento Giocano oggi e domani Giocano? Siamo sicuri? Giocano? Non si dice niente Ma giocano Noi invece quando torniamo a giocare? Ci vediamo lunedì Sempre alle 18.40 Qui con noi a Passaparola E ora linea il TG5 Grazie Ilari A voi Buona domenica Grazie